Ragazzi, questa è la prima volta che la mamma di Hilary si vede in faccia Ciao funghettine e funghettine, guardate come ho chiesto oggi Sia Nicole, ragazzi vi dico una cosa, probabilmente questo video non uscirà mai Ma se lo state vedendo vuol dire che è uscito Ma guardatelo tutto perché poi probabilmente verrà cancellato E ora vi spieghiamo il perché Vi premetto che tra poco vedrete anche Hilary, andremo da lei Come vedete siamo chiusi qui dentro perché siamo nascosti Stefano per me non lo dovresti fare E Nicole, non ti preoccupate, male che vada chiuderemo il canale Ma la conosci la mamma di Hilary, non vuole essere ripresa, ti fa passare i cuoi ogni canale Eh, non ti preoccupare, io voglio provare a fare questo esperimento Praticamente oggi Hilary è in piscina con la mamma, funghetti Quindi io ho pensato a fare una cosa Cosa odia di più la mamma di Hilary? Essere ripresa dalla telecamera Bene, la mamma di Hilary odia essere ripresa dalla telecamera E c'è anche un'altra cosa che vi svelo Lei odia farsi il bagno Lei o al mare o al piccino si fa il bagno Quindi qual è l'esperimento di oggi? Facciamo una sorpresa a Hilary Andiamo adesso da Hilary, chiederemo il suo aiuto Io ragazzi proverò a riprendere la mamma di Hilary E oltre che riprenderla la proveremo A buttarla in piscina o a fargli un gaventone qualcosa Questo è il tuo ultimo video Ciao ciao, addio eh Allora, io direi di fare questa prova ragazzi È la fine Ovviamente perché c'è Zia Nicole Perché tu mi aiuterai a tenere la telecamera Ok? La cosa principale è trovare dov'è Hilary con la mamma Ecco, le stanno lì, stanno lì, stanno lì Dove? Là, là Allora, la cosa principale è andare da Hilary Facciamo finta di nulla Ma non dire assolutamente niente alla mamma Ok? Ma ovviamente a Hilary glielo diciamo Sì Ragazzi, questa è la prima volta che la mamma di Hilary si vede in faccia Ciao Ciao Chi c'è qui? Che c'è un video? Sì, stiamo facendo un video così, è un vlog normale C'è tutti con il video Eh, Hilary, già l'abbiamo detto con Nicole Ciao funghetti Ciao funghetti Mamma, ma poi perché stai qui? Perché sono qui? Eh, Cozza e Nicola ti vogliamo venire a fare una sorpresa A proposito, ti dobbiamo parlare un attimo Può venire un attimino? Allora L'idea, Hilary, è questa Però ci devi aiutare Adesso praticamente Hilary, questo forse è l'ultimo video che noi faremo sul canale, lo sai? Sì Perché tua madre ci farà cancellare tutto Adesso noi prendiamo mamma E di nascosto Nicole ci tiene la telecamera Io e te con una scusa ci avviciniamo lì Prendiamo e la buttiamo in piscina No Di sotto No Prendiamo un secchiello Ah, quindi potremmo prendere anche un bel secchio gigante Quindi andiamo a comprare un bel secchio e lo tireremo addosso Ragazzi, questo è l'ultimo video che faremo E questo credo che sia proprio l'ultimo video Ciao Io sono Michio e i secchielli giganti I secchielli giganti giganti ma sono di più l'acqua Ci falta tre Questo secchiello è troppo grande per me però E deve essere grande il secchiello Gigante, vieni qua tu Allora ragazzi, guardate, lì c'è la mamma di Ilari Ilari si sta facendo mettere la cuffia Sta facendo finta che è tutto normale Ilari, tutto bene? Vai, riempi il secchiello d'acqua Ragazzi, voglio suscitare tutto Dai, veloce, Ilari Ma che polla, ma sei caduta Ma Ilari Ma dai, ma non dovevi cadere Allora, prima cosa Io voglio provare A prendere il lettino e buttarla con tutto il lettino Prima voleva prendere il lettino La mamma ti arrabbia un sacco È la fine, è la fine Salutate tutti i stafane Ilari perché è la fine No, 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 è matto, è matto No, lo stavamente bene Lo stavo sistemando Sì, lo stavo sistemando No, no, niente Stavo mettendo bene Fai Oh, ma questo Stava beccato Stava beccato Eh no, stava mettendo bene il lettino Non mi ha fatto il video, poi ti è matrabbio No, no, non ti riprendiamo Tu l'ha capito? Allora ragazzi Il piano del lettino è andato È andato in fumo Ci ha scoperto No, ma perché c'è il lettino che è troppo lontano A parte che già quando saprà che è ripresa Quindi dirà male Ragazzi, andiamo col gavettone Ragazzi, andiamo col gavettone Io ho paura Io scappo Io vi ho uscito Io vi ho uscito No, no, no No, no, no No, no, no Ragazzi, andiamo col gavettone Ragazzi, andiamo col gavettone Ragazzi, andiamo col gavettone No, no, no Ragazzi, andiamo col gavettone Io l'avevo detto che era la fine Oddio, oddio Io l'avevo detto che era la fine No, no Stiamo a pubblicare questo No, non lo pubblichiamo Sì, lo pubblichiamo Lo pubblichiamo Lo pubblichiamo Stai, non lo pubblica perché mi arrabbio No, non ti pubblico Non ti pubblico Stai, guarda, ti giuro che lo faccio chiudere No, no, non ti pubblico Eh, ragazzi Stai, stai, questa è veramente Che ragazzo Stai, stai, questa è veramente un po' divertente Guarda, stai passando la coda Lei, lei, lei Non la pubblichiamo, ragazzi Guardate, guardate Ecco la mappatina Che ci sta venendo Ragazzi, allora Qua la situazione sta degenerando Io l'avevo detto Guarda che si incavolava Infatti adesso stanno litigando Proprio tanto Io l'avevo perdito Guarda che vieni guai Ecco, apposta Io poi sì, lui scapperei Ma è uno scherzo Non mi rega niente Non mi rega niente Non mi rega niente Lo sai, basta Non lo so Lo sai Vabbè, ma è uno scherzo Ma è finito Mi spunti, la basta Non lo sai Non mi piace Ma vanno Ancora Lo tempo di no Troppo Ho finito di giocare Eh, vabbè 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 Ma non ce l'ho Ancora Con il gioco Beh, sto posto Ho cominciato a ridere troppo Io te l'avevo detto Troppo arrabbiata Ricorda Abbiamo visto tutti Però raga Io non lo so Se questo è l'ultimo video Che facciamo Però sto sicuro Che sia un entro Il video più figo Che abbiamo mai fatto Ti prendi, ti prendi Ti prendi Ti prendi Oddio, 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 oddio Sì, non lo so Neko Ma dove stanno? Io te l'avevo detto Che si arrabbiava Porta centrale La raffarellata Ce se ne sta andando Ma veramente Ma dai Ma se adesso stavamo Cioè Pensiamo che gli era passata la conosci no? è uno che non gli parla non ci credo eh scusa la borsa sta lì tutto quanto? eh ma l'ha portata la doccia cioè quindi l'ha portata la doccia per andare via? non ci credo eh allora dai prendiamo raccolti le cose e andiamo lì che stiamo a fare qua? io la sto andando dietro a lei per fermarla perchè io non è che voglio che... va bene allora dai prendiamo le cose e andiamo dai vediamo se riesco a fermarle dai ma scusa eh ma perchè stai a porta via? Loredana ma aspetta no lasciale qua ma mamma perchè ti sei arrabbiata così? ma scusa ma lascialo un po' ancora no? dai non lo facciamo più non lo pubblichiamo il video dai ma se si può almeno per favore vabbè ma perchè? ciao ila che ha detto mamma? che il mio figlio si è arrabbiata tanto? tanto eh more ora ragazzi siamo chiusi dentro il bagno perchè ila si sta spazzolando i capelli e la mamma sta di là che si sta vestendo io non so se continueremo a fare altri video spero di sì io faccio una cosa ragazzi se questo video lo vedete vuol dire che l'ho pubblicato se l'ho pubblicato guardatelo perchè probabilmente poi lo dovremmo cancellare non lo so va bene funghetti noi vi salutiamo e speriamo di vederci domani con un altro video vi facciamo sapere com'è andata ciao ciao ragazzi a domani forze forze a domani ciao 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 ciao